che mi era girato stamattina vai io vai ciao Rosa ciao Angela vai ciao ciao un filmino e vai capace è un zappo guardate le mani è rossa o pallone? è un pallone vabbè vede davide qua qui l'ho straga vede che fare eh vabbò onde alte 2 metri signore vabbè 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 Grazie.